Comunque da quando è uscita io ho visto molto la mentele sul prezzo Secondo me è ingiustificato Perché per 3.000 euro compri una Z63 che ti fa il RAW ProRes, micro RAW, ProRes RAW, H265, H264 Un file da madonna, autofocus, che più ne metta 240 frame, 120 con un minimo di crop della bass Quindi per me 3.000 euro giusti Giusti, non c'è la mentella che tenga Anche perché se guarda i competitor hai la Pixis Che costa 3.000 Sì, poi i competitor ce ne sono pochi a questo prezzo Pochi, cioè sono le R5 usate Comunque hanno un RAW diverso Un RAW, un B RAW No, un RAW, l'R5 ha un RAW Ah, ok, hai capito, un RAW diverso Un RAW diverso No, comunque il prezzo per me è più che giusto Più che giusto Comunque è anche una macchina fotografica Esatto, infatti il problema è stato i fotografi che dicono A me nel lato video non interessa niente Che cosa ne devo fare Compri una Z62 Che c'è anche il sconto Ecco, tanto il sensore, vabbè, forse questo è più performante a livello di raffiche Il nuovo partial stacked, come viene chiamato, è un sensore Sony Però se uno vuole un po' di prestazioni è giusto anche che le paghi, insomma Comunque questo sensore, come hai detto ufficialmente, costa meno Quindi ha potuto portare la camera a un prezzo minore che per me Sì, perché appunto è partialmente stacked Sì, dopo a molti non piace questo nome Però per me va benissimo È un prezzo giusto O per anche i beginner, filmmaker È un prezzo per me più che giusto Cioè va bene Secondo me se uno ha problemi ad affrontare 3.000 euro di spesa Perché ancora non è un pro Un pro intendo un professionista Uno che lavora con questa roba Con foto e video O se è completamente all'inizio E se sei in una di queste due stazioni Cioè un amatore O uno completamente all'inizio Ci sono altre camere che costano meno Sì, dopo dipende Se uno vuole fare un fotografo Ci sono varie camere Se uno vuole fare video, maker Ce ne sono altre Per il filmmaker ce ne sono ancora altre Anche perché Se guardiamo già dieci anni fa più o meno Forse anche di più Dieci anni fa Quando comunque sia una camera Che faceva dei buoni video, delle buone foto Tipo la Canon 5D Mark II Costava comunque 3.000 passa euro Sì E se volevi delle prestazioni più alte Dovevi andare su magari una red cam Che andavi su i 30.000 Sì, è riuscita la Dragon 6KX Cioè comunque per fare film Da dieci, quindici anni fa adesso È cambiato tantissimo Cioè all'epoca la 5D era Il prossimo era di adesso La red La 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 C'è Comunque i file Nikon Il Land Raw Ricorda molto Anche da dei colorist con cui abbiamo lavorato Dicono che Land Raw di Z8 Ricordano molto quelli della Dragon L'han detto altre persone Non me ne prendo le responsabilità Di Dragon Comunque sia Poi con il lato Raw Voglio fare un video a parte Per spiegare bene come funziona il Land Raw Comparato a Magari Blackmagic Red Raw O Harry Raw Perché cosa succede? Che il Nikon Raw Detto brevemente adesso Non è un Raw 14 o 16 bit Ma bensì è 12 Quindi io penso Dico da ignorante Perciò non prendete Da ignorante Lo dico da Non scienziato Del Raw Quindi prendetelo con Scienziato ingegnere Volevo dire Prendetelo con le pinze Ma penso Che Essendo solo 12 bit Non può permettere Il fatto di Gestire Gli ISO In post produzione Questo lo penso io Poi Comunque per chi non lo sapesse I 14 bit Sono i 16 bit lineari Esatto Non è che abbiamo detto Una stronzata Ma perché Se uno va a vedere Non so Una Ursa 12k O la Red Sono 16 bit lineari Che sarebbero 14 Esatto Normali Però beh Queste sono Nerdaggine Nerdaggine pura Faremo un video dedicato All'an-raw Che praticamente Finendo il discorso Non si cambia Gli ISO In post produzione E quando Mettiamo Gli ISO In camera Vediamo Le parti che Clippano Della scena E smettono di Clippare Se passiamo Per esempio Da 3200 A 100 ISO Mentre Mentre Sulle cinecamere Questo Non esiste C'è Clippa Clippa Punto Probabilmente Perché ti prende Una vasta di colori Più ampia E già E quello è il massimo Che può fare Vabbè Torniamo a noi Sì Torniamo A Z6i3 Esatto Il prezzo Più o meno L'abbiamo parlato C'è poco Da dire Se vi sembra tanto Ragazzi Compratela Secondo me Il prezzo è buono Poi Tu hai bisogno Di un RAW O vai su Blackmagic Costa poco Però un form factor Diverso Durata batteria diversa Variegata Manual focus Tutti i problemi Qui hai una camera Che con 3000 euro Te ci metti una batteria Un obiettivo E registri C'è L'unica cosa che dovresti comprare Sono i filtri E basta Quindi Però nel senso Prendi Scatti Cioè Hai già RAW Tutto quello che vuoi Lo puoi già importare Su Da Vinci L'unica cosa che non puoi importare Su Da Vinci È il ProRes RAW Che va convertito In cinema di TNG Vi lasciamo qua Vi lasciamo qui sotto In descrizione Un Nikon RAW Un RAW E Un ProRes RAW Che adesso filmeremo Con la Z6 3 Comunque È questa Z6 3 Quella lì Di L'Otac È la Z8 Questa è Z8 E la larga è una ZF È una ZF Tutta a casa Nikon Quindi Esatto Anche questa Esatto Lasciamo vari file Anche un 240 In slomo Lasciamo anche un 240 In slomo Della Z6 3 Così potete vedere voi Potete scaricare Come lavorano i file Così uno ha la propria Possibilità di maneggiare il file Senza vederlo modificato Quindi Esatto Abbiamo visto Che comunque La recensione di Gerald Undone Che vi lasciamo questa Nelle schede Che dice Che comunque è rimasto Contento della camera La trovo un po' rumorosa Anch'io Ho fatto delle prove Con Z8 e Z6 Facendo la stessa scena Mi sembra leggermente più rumorosa La Z6 Però Mi sembra che lavora meglio Sulle alte luci Tutte su Appunto sui riflessi Della pelle E quant'altro Potrebbe essere Un problema Se lo vi volete Potrebbe essere Come il log Gestisce Tutto il colore Vediamo Sarebbe bello vedere Morrerò Primo o poi Una Nikon Sarebbe bello Però Per adesso Però va bene così No va bene È un confine Che lavora molto molto bene Quindi Sì Poi il rumore Delle Nikon Non crea artefatti Che distruggono il file Quindi No è piacevole Si può pulire tranquillamente Quindi Per me Va bene Poi è quel È quel rumore Che Da cinema Cioè se vogliamo Passatemi il termine Comunque È quel file grezzo Che non è pulitissimo Come una FX3 Come una Sony Comunque ha quei Noise Redaction Molto Pesanti Pesanti Comunque Tips per Sony Sony Mettete Noise Redaction Off Noise Redaction Low Medio High Sì Come nella Cioè Comunque la C400 Di Canon Che appena uscita Lo può fare Cioè Proprio la possibilità Di togliere E mettere Il nose redale Si vuole Per me Riflisterà Troppo pesa Pesante Cioè Bella camera Color science Della Venice Perfetta Bcam Per la Venice Quindi Per me ci vorrebbe Sicuramente È una buona camera Non dico di no Però per quello Che costa Non c'è neanche Waveform Ragazzi Adesso Farò Un video dedicato Che volevamo Filmarlo oggi Ma abbiamo avuto Un imprevisto Non filmeremo Un D-pin Detagliato Nel menu Di D-con Che per alcuni È complicato L'inizio E capisco Ma i settaggi Che si possono Ottenere Con la Z8 La Z6 Ragazzi Si va dentro C'abbiamo Waveform Slow shutter Il peeking La schermata a strisce Vi spiego tutto Come si fa Seguite il canale E lo vedrete Infatti Te l'hai trovato Da poco Lo slow shutter No Lo slow shutter Mi è venuto E lui fa No io con la Su la fix Tra lo slow shutter Ho detto Fammi vedere Un attimo E l'ho trovato Infatti Faceva strano Che comunque Sulla Z8 Non ci fosse la possibilità Comunque davvero Se facessero Un upgrade E togliessero Cioè Mettessero La possibilità Di utilizzare Lo shutter angle Come le videocamere Nella Nikon Nella Nikon E Il red ro Comunque sarebbe Separata Dalla cina Dalla fascia cina Che è questa Dal fatto che Questa fa 16 bit ro E la Z6 E fa 12 bit ro Non puoi Cambiare Ise in camera Qui si Cambi l'esposizione Da ro Cambi l'esposizione Da ro Sarebbe Non sarebbe male Si Tornando un attimo Dal prezzo Infatti Abbiamo nominato Cellefix 3 Cellefix 3 Comunque Non offre un raw Comunque offre due ISO Nativi Abbastanza buoni Che ti permettono Il problema Comunque Del news reduction L'unica è che Con 3000 euro Di una Z6i3 Ti puoi permettere Di Spendi meno Comunque Non è che spendi meno Perché Perde di prestazioni Comunque Ha un prezzo Competitivissimo Ti dà Come abbiamo appena detto Delle gran Possibilità Comunque Anche per dei Beginner Filmmaker Della gente Comunque Un Semi pro Uno che sta iniziando Per me va benissimo Il prezzo Ti permette Non so Da dei competitor Come non so Z8 FX3 O R5 Quello che Comunque uno vuole Ti permette di spendere Quei 1500 euro in meno Che puoi permetterti Di Spendere in una lente Infatti adesso Stiamo usando Il Nikon S La serie S 85mm F2 F1 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 Infatti Vedrete poi Quanto è Nitida e pulita Dopo dovrò anche testarla io Con la Post Con la Color Però Ti permette Spendere Ha meno Spese Comunque se tu puoi prendere Un 24-70 Va benissimo Nitido Bello Già ci puoi far tutto Pulitissimo Lo do sporchi da più in po Si metti Collaborazione Dromatica Però ti permette Di investire in altro Quindi non so Uno vuole fare il cinema Ring Può Permettersi di spendere Quei 200 euro in più Per le batterie Avere due batterie in più Delle schede in più Cioè Spendere è sempre buono Risparmiare Si 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 Perché comunque Adesso parlando Terra a terra Avere le lenti Cinema Oppure avere Il monitor Cioè Sono robe Che ti permettono di Migliorare il workflow Però comunque È una roba che uno può Evitare Tipo hai visto Tipo hai visto Il video di Danny Javor Che ha fatto per Nikon Con Z6 3 Si Ha usato Mi sembra un 24-70 Poi sull'intervista Ha usato anche Usa i 50 Lui nelle interviste Si no mi sembra Il 135 plena Può essere Può essere Ha utilizzato Lenti Nikon Vi lasciamo il video Qui anche questa Nelle schede Perché è molto bello Con poca trattatura Ti hai dato A fare un ottimo prodotto Si si Dopo Lui usa Ronin Il 24-70 E poi Con FX3 Lui usa FX3 Però è bello Comunque vedere Anche gente esterna Che usa Nikon E ne parla molto bene Comunque il video È di qualità Bello Se sei visto Comunque Lui è bravo Quindi cioè Non è tanto la camera Ma il come Utilizzi la camera Comunque Si Comunque Abbiamo camera Al giorno d'oggi Che ti permettono Di fare Di sperimentare Perché ormai La qualità è alta Anche con ZS Cioè Non fai il raw Ma è una gran camera A parte che io Sono innamorato Front factor Front factor Vintage E tutto Ah bello Questa invece Sicuramente è una workhorse Cioè La ZS3 è una macchina Da lavoro Impugnatura Solida Bella Si tiene bene in mano Tutti i pulsanti Del caso Tutti I Formati Del caso Lo schermo Tiltabile Infatti Stiamo guardando Con queste due Camere Con la Z8 No Non so Devi fare un'intervista Qualcosa Vuoi parlare Vuoi fare un YouTube Con queste camere Cioè Con la Z8 È un po' più impegnativo Perché non hai Lo schermo tiltabile Ma è la cieca Però Vai come O prendi Non so Un Revenai Però comunque Ti dà Anche se magari Hai delle inquadrature Particolari Che devi mettere La camera Su un SysTand O un qualcosa Un po' più strano Puoi girarle E vedi direttamente Senza avere Un Un monitor esterno Una trasmissione Mi sa che stiamo Registrando L'audio in mono Ma ce ne affarchiamo Vabbè Ragazzi Noi siamo Molto Contenti Della camera Adesso abbiamo Dei progetti Che dobbiamo fare Vogliamo fare Vogliamo e dobbiamo Vi chiediamo Di seguire il canale Se vi piace Questo formato Questo format E anche altri format Perché queste sono Una sperimentazione Sì Poi potremmo parlare Non so Di obiettivi Di generale Nel mondo cinema Quindi C'è di cose Ne sappiamo Che siamo Sì Siamo del mestiere Insomma Sì Sì Ci divertiamo Facciamo quello che amiamo E speriamo che Di trasmettere Questa cosa qui Perciò Vorrei dire Una cosa Per concludere Il video Che non è C'è la camera giusta Per Ogni individuo Non è la camera Più performante Ma quella che Quando guardi file Dici Cazzo Questo file Mi piace tantissimo Cioè Questo è quello che Per me È una cosa importantissima Per ogni persona Che compra una camera Non è il tanto Il raw 16 bit Comunque c'è gente Che anche qui 10 bit Tira fuori delle immagini Che fanno letteralmente paura Ma la camera perfetta Per ognuno È quella che Quando scarichi i file Li modifichi Comunque Ognuno fa il proprio workflow Di color Dice Questa camera Mi piace tanto Mi piace il file Mi piace Il generale della camera Quindi Corretto Il resto Sono tutte pippe mentali Quindi Non comprate niente Girate con Con gli occhi Non si sa poco No Sicuramente Sì Però è anche vero Che bisogna dar tempo al tempo E innamorarsi un attimo Delle cose Capire come funzionano Un determinato file Io quando Passai da Sony a Blackmagic Ci mise un po' Per tutti Bisogna sapere usare La papatrizzatura Questo è un'altra Un'altra piccola cosa Però comunque Che dire Siamo contenti Dai Siamo contenti Da te staremo bene E Vedrete altre cose Su questo canale Ciao Ciao